Bentornato sul mio canale, in questo video vediamo un brano famosissimo, La Vie en Rose. Mi sono ispirato a Chet Actings, grandissimo chitarrista fingerstyle, di fingerpicking, che è, insieme a Merle Travis, colui che ha sviluppato questo stile, lo stile del fingerpicking. Però io mi sono ispirato, ho fatto una versione in La maggiore, tonalità che rende bene sulla chitarra, evitando il fingerpicking. Il fingerpicking. Quattro. E poi, una parte del brano fa... Ovviamente lo leggo a prima vista, come sempre. Ho dimenticato il pedale. Ovviamente, la tab è scritta bene, e la trovi sotto il video. Sul Patreon, è riservata agli iscritti al Patreon. Ti spiego brevemente cos'è il Patreon. Il Patreon, ti ricordo, puoi abbonarti per 3 euro al mese e scaricare centinaia di tab, sia brevi arrangiamenti come questo di due pagine, sia delle lezioni di chitarra, di alta formazione, armonia, fingerstyle, eccetera. Perché è un arrangiamento di due pagine, mentre gli arrangiamenti più lunghi, denominati professional, li inserisco sul sito, sono scaricabili a parte. Quindi sul Patreon hai l'audio, hai a volte il guidar pro. E qui la melodia... Insomma, il finger peak è un po' problematico da quello classico di Chet Hacking. Io preferisco uno stile classico, questo... Qua ho alternato questo stile con un po' di finger peaking. Comunque è una versione più facile di Chet Hacking. Poi farò una versione base in Do maggiore. Vedi come cambia un'altra tonalità con colori... ... 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 che in Do c'ha un altro suono chiuso, diciamo. ... ... ... ... Vedi che differenza. Ti invito a seguire le lezioni di Armonia 3.0 sotto il video. C'è il manuale su Amazon, ci sono le lezioni, c'è il link in cui ti puoi iscrivere, ricevi le lezioni, il manuale in PDF, preliminari. E poi se vuoi seguire tutto, c'è il corso per l'armonia funzionale, l'armonia, l'arrangiamento, i colori, tutto quello che devi sapere nella chitarra sola, se ti interessa chitarra fingerstyle. Quindi noi ci sentiamo alla prossima. Se non si, è iscritto, al sito www.jambirobruno.it E' il canale. Noi ci sentiamo al prossimo video! Un saluto da Gian Biro. Ciao! Grazie a tutti